Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Co cazzo Andiamo Sto riprendendo lentamente, oh raga è davvero incredibile Leve la panti bestemmia Ah Tad dice che dovevo comunque ballare fino a 10 kill, ah quindi non sarebbe andata comunque bene la sfidozza? Eh vabbè niente Vamoss' alla playa Questo è perchè non mi c'è un trasfattore ammazzatore Loro loro lollo Buongiorno Pete benvenuto col prime Salve sto vivendo ancora il nuovo quello della black edition Troppo buono ragazzi tra l'altro sul sito di level up con il codice xyuderone2 C'è il 2x1 E' tanta roba ragazzi Ah io non lo faccio così quindi ok Basta che tiene aperto il deltaplano E premi da barra spazzatrice Andiamo Il solo sta da qualche parte qua comunque Qua la schiena me la ricordo minimamente Spanno da sotto? Spanno? Sì una due Cosa vogliamo fare? Eh prendere gli iron non mi dispiacerebbe sincero Sono dietro di te? Sul fungo? Il trenzo Ed è titan Gusto More ribes nero e assai Merda raga allora un secondo che lo registriamo un secondo Allora Però mi devo Allora il gusto A me sembra una fraga è more Ribes nero e assai Ribes nero Ok La promo Tra l'altro metto nel 2x1 Mano c'è intanto Cosa? Ehm Stai per cascare pizza per cascare? No 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 Io guarda non ci voglio credere Cioè ti devo dire io che stai per cascare Cioè ti devo dire io che stai per cascare ma è che cosa è cazzo? No io no 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 Non ci credo che non l'ha fatta apposta Non ci credo che non l'ha fatta apposta Non ci credo che non l'ha fatta apposta Mi dispiace No 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 Cosa vuol dire? No 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 Ma cosa fa scusami? E' buttato da Buono Buono Assolutamente si raga Non Niente da dire La dolcezza è perfetta Un gusto che potrebbe piacere a tanti di voi Vi invito ragazzi A provarlo E approfittare Della nuova promozione Level up Fatto dai gamer Per i gamer Com'è? Non lo so Io letteralmente non sono stato un secondo fermo a non ammazzare gente Nice Ciao sono Gianni Oddio Benvenuto Ciao bello benvenuto Grazie Si va per potenti Pony Z 3 mesi Ciao Pony Z Non dica Non faccia Abbiamo il cecchino con 9 colpi La Sky può partire ufficialmente Ufficialmente Un saluto Porca merda Porca merda Dai 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 Salutiamo Scuola Galdus Salutiamo Una voglia oggi di andare a scuola guida Proprio pane a un ornito rinco allora non faramo ok non farlo lo faccio io questa sera ma le live tu non le fai mica per lavorare tu le fai per divertimento a posto a posto va bene non so perché fa così ah viene fuori un messaggio con scritto hai attirato l'attenzione di Xtuder merda tiriamo intanto in NA ovest allora con calma ho una sfida mi dica la sfida non puoi 400 metri in distanza siamo 400 a me sembra molto strana questa cosa ma mi sembra più che sospetto e questi voglio andare a vedere nei play no si si ma ho un quinto ma voglio vedere nei play questi questo è capire che cazzo gli è passato per la mente a questi grazie cr20 grazie dei 6 a meno che i pianeti non ci sono allineati capisci che ci sono tanti fattori che ti possono far trollare una sky ho capito allora bravo bravo cosa cazzo devo dire carlitos tua madre ecco di cazzo di burrito di merda bastardo bastardo arcatraia fusi come ci sta prossimo tu è normale e lasciarmi 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 perché non ci sono più i fornaligna e da quello che so io non sono attualmente oggi non sono manco più possibilità legalmente non può manco più farli perché sono cancerogeni tra virgola legna le cose il porco dia ma figa sua madre cancerogena dio caro perché devono per forza grattare sulla corrente figli di puttana bastardi non ve la daremo una minchia ok nice non è molto nice sonia vorrebbe le mutande tigrate ok sonia allora facciamo un patto una foto per una foto mi sembra corretto lei ne gira una in privato su instagram e ne gira una in privato su instagram poi se lo dico a mia moglie mi incula andiamo per ritardo nimbilico con i miei sogni dentro l'incubo combatto il tempo vuole fottermi e sono pronto a difendermi senza regole senza limiti ho bisogno di momenti atipici i desideri avvolti bruciano destinati ad esser cenere il mio spirito è ribelle zero angeli con me senza luce il mio destino io non riesco a cantarla così alta la mia anima è oscura niente pace dentro me prigioniero del mio inferno e le chiavi ce le hai te di particolare mi tiro giù il copione a mano lo propongo sento il budget e faccio la barra io un'idea di spesa ce l'ho per quel videoclip di socialmente chiuso a prendere il badge ora droppo l'ultimo poi a dicembre i prossimi ok zekron che fa cose non so neanche cos'è di cosa significa love fagli cambiare quel nome perché porco dio f infatti non è colpa tua non è colpa no no ma non è colpa tua fagli togliere quel nome che se lo rivedo dio caro non lo so cosa succede ma di due non c'entri un cazzo ma non me l'aspettassi non fosse un cazzo meglio anch'io me lo aspettavo nel cuore sarei come lei se ne può andare a fare il culo bambino del cazzo i piedi ero mutato porco dio se vedono lì c'è il link esatto che mi ha inviato